Mara Carfagna è stata ospite in studio a Inonda, la trasmissione di La Sette condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. La ministra è uscita da Forza Italia e ha sposato il progetto di azione con Carlo Callenda che adesso sta valutando un'alleanza con Matteo Renzi. E' in corso un confronto serrato e soprattutto molto serio ha confermato la Carfagna non si tratta di un confronto sui simboli, sulla leadership, ma c'è in gioco qualcosa di molto più grande. Il famoso terzo polo, che Callenda e Renzi vorrebbero ricostruire, convinti che possa fare la differenza alle elezioni, si parla di costruire un contenitore per rappresentare i moderati che dopo la caduta di Draghi non hanno più una casa. Da tempo i moderati facevano fatica a ritrovarsi in Forza Italia, ma il 20 luglio è stata sancita la sottomissione dei moderati ed i liberali all'ala sovranista della coalizione del centro-destra. Renzi e Callenda sono d'accordo che c'è un prima e un dopo Draghi, anche l'Italia può essere un paese serio, rispettato e giudicato sui risultati e non sulle promesse. Silvio Berlusconi ha ricordato Tesele in un'intervista aveva detto che la Carfagna sarebbe rimasta di sicuro. Che cosa è successo? Potevo candidarmi in FAI ha risposto Carfagna e avere un seggio sicuro e invece ho preferito una sfida rischiosa. L'ho fatto per non tradire i valori in cui ho sempre creduto. Mi sarebbe piaciuto restare in quella che è stata la mia casa per quasi 18 anni, ma mi sarei vergognata dopo la caduta del governo. Grazie per la visione!